Interrompere l'occupazione abusiva e regolarizzare la loro posizione. Sono queste le richieste avanzate da Stefano Pollegioni e Andrea Montalbini, di Prima l'Italia, sul centro autogestito Grizzly. Si tratta di un vecchio stabile abbandonato, situato nell'area dell'ex campo d'aviazione, che un tempo era sede della scuola di volo. Poi, dal maggio 2014, un gruppo di giovani ha cominciato a ritrovarsi prima all'interno della struttura e poi a organizzare attività, come incontri tematici, concerti, seminari, l'apertura di una biblioteca e addirittura un mercatino ortofrutticolo a chilometri zero. Poi, in questi giorni, hanno rifatto il look allo stabile. Da queste immagini, caricate sui social network, si è riaccesa la polemica con centinaia di commenti di cittadini fanesi. Prima l'Italia, intanto, ha inviato al sindaco di Fanno, al questore, al prefetto di Piesero e Urbino e al comando provinciale della Guardia di Finanza una lettera in cui denuncia il silenzio dell'amministrazione comunale, che più volte è sollecitata di intervenire a parer loro non fa che aumentare l'insofferenza verso chi si ritiene al di sopra delle regole e delle leggi. Inoltre, domandano se siano state verificate la regolarità dei permessi, le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie. A questi dubbi ha risposto Carla Cecchetelli. L'assessora al patrimonio oggi ha specificato che il comune di Fanno non può intervenire in quanto il terreno è ancora di proprietà del demanio. Sono in atto tutte le procedure per trasferire ufficialmente la proprietà di quell'area che è destinata a parco e gli immobili sovrastanti per passare nel patrimonio del comune di Fanno. Quindi il demanio per ora ha dato solo il parere positivo. Le procedure sono state avviate, ma servono atti che necessitano di tempo. Intanto è stata predisposta una gara per la scelta del tecnico, che entro un mese e mezzo circa dovrà preparare la documentazione da far firmare al demanio in quanto attuale detentore dell'area. Dopo il frazionamento, infine, si potrà procedere con il decreto di trasferimento a favore del comune di Fanno, che, salvo imprevisti, avverrà entro la fine della prossima estate. Per quanto riguarda le iniziative svolte dai ragazzi, invece, anche qui, la competenza non è dell'assessorato, ma di altri organi competenti, quali potranno verificare se le attività vengono svolte a favore dei propri associati oppure nei confronti di terzi e quindi di persone che non fanno parte dell'associazione stessa. La Polizia Amministrativa, la Guardia di Finanza, il Corpo dei Vigili Urbani o altri organi competenti, diciamo, in materia di vigilanza, che dovranno andare a verificare se svolgono delle attività conformemente alla legge e attività legali, non attività, diciamo, di attività illecite. Il mio assessorato può solo, non può fare altro, insomma, ecco.